eccoci qui buonasera ciao a tutti ragazzi e benvenuti con grande entusiasmo ve lo posso dire la prima lezione è proprio una premiera assoluta del tuo corso preferito quello nuovo che desideri dalla tua nascita sesso subito il meglio di ecco l'ho scelto tra miriadi di titoli di cose testi e tutto allora Marlo lo sa perché l'ha già vissuto cioè c'è tutto un background grosso ragazzi questo corso qui cioè è una cosa veramente potente la lezione prima che è fondamentale allora tu che mi stai ascoltando hai dei primi approcci tipi di approcci con una donzella che ti tira forte e però sbagli scandeggio cos'è il problema il problema è che vorresti chatare vorresti cercare qualcosa la parolina giusta la situazione balle balle quelle un corso master come il mio potente te lo deve dire niente parole trovi la situazione come si faceva un po' la mia età trovi per cui la becchi prima o poi lei ti osserva e tu la scruti la fissi negli occhi per un nanosecondo occhio così di ghiaccio ta la cata fulmini fantastico ci rimane stechita si ricorderà per tutte le notti di te dei tuoi occhi del tuo sguardo penetrante e allora penserà non ce n'è altri come lui perché lui cioè te che poi saresti il riflesso di me sei quello che non ancora che desidera poi negati fatti fatti finta di avere mille impegni la zoom di lavoro il meet con gli amici e così che la inizi a conquistare negati ma sai quante volte mi sono negato io e Marlo segui questo primo consiglio se no perché vengo lì ti spacco con tutti i soldi che ti ti spacco quindi seguimi ok Marlo dici che questo qua mi segue?